Konnichiwa kozaimasu! Sono Giulia Sciotti, Marketing Manager di Farnese Vini. Oggi vi parlerò del nostro Fantini Montepulciano. Il Fantini Montepulciano nasce nella provincia di Chieti, in particolare nella zona della Valle del Moro. La zona della Valle del Moro è una delle zone che ha un valore storico molto importante, perché durante la Seconda Guerra Mondiale si è combattuta una delle battaglie più importanti di questo periodo. Perché? Perché la Valle delimitava il confine tra i tedeschi e gli alleati. Oggi invece è piena di vigneti ed è molto famosa e molto importante per la produzione del Montepulciano. I nostri vigneti infatti si trovano nella zona più a nord della Valle, con una ottima esposizione al sole e con una buona composizione dei terreni. Infatti abbiamo una composizione calcarea argillosa, che determina anche la struttura del vino. Inoltre la vicinanza alla Maiella, che è una delle montagne più alte dell'Abruzzo, raggiunge infatti 3.000 metri di altezza e la vicinanza al mare crea un'escursione termica costante, che genera uno sviluppo di una struttura aromatica molto importante. Il risultato? Il risultato è una persistente nota fruttata con dei piccoli sentori di vaniglia. Inoltre il tannino è molto morbido al palato ed è anche di facile bevuta. Vi consiglio di assaggiarlo e fatemi sapere cosa ne pensate. Mata ne! Arigato gozaimasu!